Ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono Gabriel, io è Birillo, oggi andremo a farvi vedere due nostri liquidi uno si chiama Lancillotto e uno King Arthur, sono alternative smoking, una marca buonissima che ha fatto anche una linea di tabacosi molto buoni, ora andiamo a provare questi due liquidi uno dovrebbe essere la fragola e uno la banana, un latte fragola e uno una banana schiacciata particolari, ora andiamo a fare la prova di svapo, prima proveremo questo qua la fragola perché la banana non lo sappiamo che è un po' forte, magari va la boccetta 50 ml, il vento c'è un'altra boccetta da farti il refill che l'abbiamo già fatta da una parte l'abbiamo presa da svopo caffè, ricordiamo... abbiamo Marina di Carara e la spezia andatela a trovare un nucleo di liquidi, atomizzatori, box nuove, vi divertirete andate lì, se c'avete un po' di tempo che volete scegliere la sigaretta giusta per voi vi seguono tantissimo lo dovrò provare con il Ghani e il Druga io lo proverò su Lamer con l'Apocalypse è un 80-20, ricordiamo, però denso, fa un botto di fumo perché denso io lo andrò a trovare nell'Apocalypse che spinge circa 4 batterie per vedere come si comporta come si comporta sull'Apocalypse è molto buono, anche la fragola è buono e poi secondo me se lo fumi tutto il giorno non stufa non è... non è... e lo devi da fumare tutto il giorno però allo stesso tempo senti bene il gusto della fragola tipo quei liquidi americani, eh? fragolosi così questo è prodotto da... è prodotto da marca italiana si qua in Italia a Milano si, a Milano buono, per quanto gli dai? e ci do noto se lo merita se lo merita si assolutamente una fragolosa buona ora andrò un po' a seccare a seccare un po' sbrodolato si non smaga, eh? no chi vuole a fumare si non è troppo dolce che dici venino ti da un colpo in bocca che... poi ti rimane anche un buon retro gusto di questa marca avevo provato anche il tabacoso si chiamava Camelot era di Perizia il tabacco era di Perizia molto buono o liquidizia e basta vado a fare il refill con l'altro liquido si sente subito la banana si, bananoso, bananoso come gli altri che abbiamo assaggiati o... andiamo a trovarlo sembrano quelle caramelline del cinema si quelle fatte a mezzaluna quelle fatte a banana si buono buono tipo quello della Valkyria meglio e non smagare meglio no, è tanta roba questa mi ricordo mi ricordo proprio quelle caramelle lì che voto ci dai a questo liquido? 8 e mezzo sono merito si sente bene il dolce della caramellina è dolce ma non troppo si cioè buonissimo buono buono all day all day te lo puoi svapare tutto il giorno secondo me non ti smaga no mi piacciono i dolci fiammolgi fruttati così è buono consigliatissimo tutte e due allora dalla tavola dello svopo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale e ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e la pagina su facebook veniteci a seguire vi aspettiamo ciao